salve a tutti volevo darvi una dimostrazione oggi di cosa cambia con le alette che ho scoperto nuova della fifth flight a quelle vecchie adesso tirerò le mie van gervan da 21 mvg original da 21 prima farò tre tiri con il terminale da 44,50 e l'aletta normale di van gervan vediamo come si appende al bullo messo la telecamera in quel modo lì perché vediato il più possibile l'angolazione vedete com'è questa è andata abbastanza dritta vedete vedete come si appesa questo con le 44 sono sempre troppo basse devo stare a più alte adesso cambiamo il terminale e mettiamo il terminale dal 48 quello che uso di solito sono questi qua così vi faccio capire subito la differenza quindi se quella da 48 andava bassa pensate con questa qua come sarà un attimo che metto mi ricordo sempre le mvg da 21 vado a tirare così vediamo come si appendano vedete anche questa bassa ma questa è andata appendere sopra vedete come sono che stanno basse vedete il culo della freccia che è bassa adesso metteremo le fit flight e vedremo subito la differenza poi vi farò vedere una stessa cosa sulle demolisher sempre quelle di van gervan da 23 una freccia che io ho potuto usare molto poco perché questo difetto aumentava sempre di più ho montato le fit flight air questo qua quello che ho fatto il video un paio di giorni fa vado a tirare vedete dritta perfetta avete visto solo perché perdono 4 mg solo perché pesano 4 mg in meno sul posteriore e quindi guardate lasciate stare dove va la freccia ma guardate l'angolazione questa è perfetta l'altra andava giù questa che è la freccia che io sento meglio in mano non potevo usarla perché mi si abbassava sempre di più e anche se accorciavo il posteriore lo stesso non entrava si vede abbastanza aria per tenerla dritta con questa qua che è lunga l'aletta larga pesa di meno riesce a tenere sul diciamo il posteriore della freccia e quindi me la fa andare perfetto questo perché farvi capire usiamo le demolisher adesso che sono queste non so se vedete bene queste qua le demolisher comunque di van gerwen per cui ho cambiato solo la punta perché si erano rovinate un po' mettiamo sempre quello da 48 che quello che di solito uso io sulla freccia e vediamo come si appenderà e poi faremo la stessa cosa con i fit flight guardate cioè anche se la tiro bassa vedete che stanno tutte giù vedete che stanno tutte giù basse vanno giù e invece di stare così va giù anche questa è giù tutte e tre giù perché non riesce ad alzarsi sedere guardate che roba guardate avete visto quindi ormai inutilizzabile giusto ok adesso metto le fit flight air questo non voglio dire che le fit flight air sono migliori a migliori per me se uno ad esempio mettere free flight air e si alzato troppo deve mettere quegli altri che sono più pesanti per questo vuol dire che per ognuno cambia che non è per tutti uguale van gerwen da 23 demolisher con le free flight air abbiamo visto prima che con il 48 del pro grip e l'aletta di van gerwen si abbassava tutto adesso con questa guardate dritta avete visto che stanno dritte le frecce vedete dritta perfetta adesso sono andata sbattere sull'altra ma sempre dritte cosa che per me era impossibile con questo tipo di frecce ok ma a parte una che si appesa a bassa ma una che leggermente si appenda un po più bassa ci può anche stare visto che questa frecce non riuscivo neanche a usarla avete capito quindi ora con queste qui pensate che anche con le 23 di van gerwen mi alza il posteriore dovrei provare con le air ma con il terminale leggermente più lungo per vedere se gli da se la alza ancora un pelo è un visita 21 presa vedete anteriore perché io la prendo così tu metto il dito in questo modo no in questo modo qua vedete sta persino largo avete visto come sta perfetta questo era solo per farvi capire che non esiste una letta perfetta per nessuno ma per ognuno di noi cambia questa freccetta per me era quasi inutilizzabile perché andava sempre troppo basso il posteriore della freccia quindi non andava bene ho messo le free flight e posso finalmente usare le van gerwen con questa vi saluto e saluto a tutti